un maniaco pazzo si stia distruggendo l'albero non lo so chi è quello? chi è Pino adesso che è un maniaco pazzo buongiorno chiamate la polizia? andò stai ma lo chiamiamo? spandolo di me andrete tutto quello vieni che cazzo a mano da lì o si stia distruggendo si queste sono azioni che poi dopo quando i pegnano ci hanno dato un lavoro a casa i capelli ci sono saureti i pegnano da buio quello che avessero venuto io ho tre polizioni che mancano i pegnano avessero sfraccato